Ehi, sorellina, com'è il Vietnam? È... è magnifico, finora. Siamo qui per questo. Niente è ciò che faremo per tutto il tempo che staremo qui. Ehi, aspetta, una stanza sull'acqua, ma è sicura? Beh, lo spero, credo di sì. Santo cielo! Potremmo essere ovunque, ora che facciamo? Concentriamoci sulla sopravvivenza. Quanto potremmo durare in questo stato? Verranno a prenderci. Che cos'era? Dove? Ho visto qualcosa. È uno squalo! Mi dispiace. Noi non moriremo. Andrà tutto bene.